Sono tante oggi sempre di più le coppie in Italia che attendono e sperano la nascita di un figlio, un figlio che non riesce ad arrivare. I problemi sono vari ma a volte irrisolvibili grazie alle tecniche della fecondazione assistita. La diffusione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita e l'afflusso sempre più numeroso di pazienti verso queste tecniche è dato dal fatto che l'Italia insieme a tutti gli altri paesi europei ha l'età al primo concepimento sempre più tardiva. Questo implica che le donne cominciano a fare figli tardi e quindi i problemi connessi alla loro fertilità sono molteplici. Due bambini su cento oggi nascono così. Secondo gli ultimi dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità le coppie che ogni anno si rivolgono alla procreazione medicalmente assistita sono oltre 70.000, un numero che dal 2005 ad oggi si è quasi raddoppiato. I centri italiani sono in tutto 357 divisi quasi ugualmente tra pubblici e privati. Peccato però che solo un terzo di quelli pubblici o convenzionati si trovi al centro sud dove prevalgono invece quelli privati. Fondamentalmente in Italia anche se ci sono lo stesso numero di centri pubblici e privati la situazione cambia moltissimo perché in un centro pubblico privato convenzionato l'attesa, le liste d'attesa possono variare fra 6, 8 fino ad arrivare a un massimo di 24 mesi mentre è ovvio che nel privato non vi siano liste d'attesa. Per quanto riguarda i costi una tecnica nel privato può, una tecnica sempre di secondo e terzo livello parliamo, può costare fra i 4.000 e 5.000 euro e anche la tecnica soltanto di crioconservazione ovocitaria se estrapolata dal contesto del trattamento 2.000-3.000 euro con un costo poi annuale di mantenimento degli ovociti crioconservati. Per scegliere il giusto centro adatto alle proprie esigenze l'Istituto Superiore di Sanità ha creato un registro nazionale della procreazione medicalmente assistita. Sul sito internet è possibile consultare l'intero elenco delle strutture autorizzate divise per regioni e servizi offerti. Sono 155 centri di primo livello in grado di effettuare solo l'inseminazione semplice, gli altri 202 possono offrire invece ogni tipo di tecnica. Da luglio avremo anche la possibilità di offrire un profilo del centro, quindi la possibilità per le coppie di vedere in quel centro qual è la patologia prevalente che viene trattata in modo da scegliere magari il centro che abbia più esperienza con il loro tipo di infertilità e daremo anche la mole di attività di ogni singolo centro per vedere quanti cicli vengono effettuati ogni anno in quel centro secondo la patologia prevalente. Per valutare le percentuali di successo di ogni singolo centro è importante appunto considerare la patologia della coppia, il fattore età, il tipo di trattamento e il numero di tentativi fatti per ottenere una gravidanza. E il successo non è detto che arrivi solo dai centri stranieri, spesso tanto pubblicizzati. C'è ancora una quota di pazienti che si rivolge verso l'estero, non è più giusto, non ha più motivo d'essere se non per quelle coppie che hanno bisogno di una donazione di gameti, perché oggi possiamo dire che l'applicazione delle tecniche in Italia ha ottimi risultati comparabili con quello di altri paesi europei. Quindi ci sono in Italia centri di eccellenza, le nostre coppie possono essere trattate adeguatamente in Italia, a meno che non abbiano appunto un problema specifico che li debba portare fuori del nostro confine nazionale. Grazie!